devo utilizzare il fondo ora voglio parlare di quelle che vorrebbero asciugare ogni nostro entusiasmo 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 mi aggiunto a voce che qualcuno mi scredita cosa dice se questo sta bene a te a me non mi sta bene a me non si può dire e parafrasando a Gigi Proiette la barzelletta a me mi piace la signora altolocata non si dice a me mi piace sì ma a me mi piace quindi a me mi piace sto figlio che ha detto quello lì il critico Mereghetta ha segnato il pallino vuoto Mereghetta io ne ho le palle piene dei suoi pallini lei ha troppe grille per la testa secondo me le palline Mereghetta non le svuota più con le tonnine non stimola i loro grillette fa troppo il grillo parlando Mereghetta quindi la gente parla la gente sparla la gente dice ma rimanga fra noi la gente dice questo De Niro è un attore monster e quello lì che ha scritto Robert De Niro Lindo Campbell è un mostro che è un freak ora questa gente è veramente mostruosa e io non sono un mal mostruoso neanche per malosso non me la bella sono grande uomo quindi li perdonerò come il padre Bob 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 De Niro eh di Slippers non voglio vendicare la sala è del Conde di Monte Cristo avete visto questa figlia? quindi di farò ce n'è uno solo è inimitabile è lui che imita gli altri inossidabile e lo so è un ragazzo invidiato è un ragazzo talentoso un certo talento ce l'ha e tanta gente vorrebbe sgambettarla eh comunque questo fanotico seguisse il mio consiglio non si deve fidare di questi consigliore consigliore e consiglieri fratolenti consigliore ed è presente il grado alla Dario Fono di Billy Cristo in terapia e pallotto Analyze questo deve dire ai suoi nemici l'avete presso in la nasa qui, 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 ti capisci? e questo va bene un po' Grazie a tutti.